Per dichiarare il voto favorevole della maggioranza a questo ordine del giorno vorrei dire anche due parole sul tema. Nel corso degli anni c'è stato questo passaggio della discussione della Tari da Ama a Equaroma che ha generato tutta una serie di problemi e comunque è stato un passaggio decisamente complesso nel momento in cui bisognava un po' accelerare per spingere sul contrasto all'evasione tariffaria. Diciamo che sostanzialmente è partita la pandemia per cui si è un po' bloccata la consiglia Abbaio ride, ma è vero. Nessun problema, Valeria. No, è vero, voglio dire, c'è stato questo problema, però è una cosa molto importante su cui bisogna effettivamente spingere l'acceleratore perché è veramente seria, per cui la maggioranza voterà a favore. Grazie.